Appuntamento importante per Bologna sabato 21 settembre che si è concluso con un evento importantissimo in Piazza Santo Stefano quando Renzo Arvole ha omaggiato i presenti con la sua esibizione insieme a una band di jazz. Era la settimana dedicata alla strada del jazz che ospitava Bologna all'interno di Città Creativa e Unesco. Un importante appuntamento con oltre 30 istituzioni provenienti dalla città a livello internazionale dove Bologna ha mostrato al mondo il meglio delle sue produzioni nel campo del design, della musica, della gastronomia e delle altre filiere cosiddette creative. Non mi rimane sulla cance, perché noi non accenciate la ricchezza, perché noi t'esserebbe e che non amico. Non mi insano ma, perché noi è otterre oltre 30? Non mi cerco, ma adesso c'ho perso. Grazie a tutti.